Buonasera, buon appetito. Desidero condividere con voi questo ultimo incontro di preghiera, questo caire delle 20 e 32 lo concludiamo stasera, però dobbiamo ancora imparare a pregare, dobbiamo continuare a pregare in famiglia e da soli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questi giorni ho ricevuto molti biglietti di augurio per Natale, molti messaggi e io desidero ringraziare tutti. Vorrei però notare che molti biglietti di Natale, molti messaggi di Natale parlano del Natale come di una fonte inesauribile di buoni sentimenti che nascono dai racconti dei Vangeli. Sento ripetere spesso che è come se fossimo in attesa che Gesù nasca ancora a Natale. Dico che forse è un po' strano perché noi celebriamo il mistero dell'incarnazione non per far nascere Gesù un'altra volta, ma per lasciare spazio in noi alla grazia che fa rinascere noi e ci prepara al giorno glorioso del ritorno di Gesù. Mi sembra che questo ritorno glorioso non sia molto desiderato e invece è la meta verso la quale noi andiamo. Continuiamo a pregare con la Chiesa, vieni Signore Gesù, e preghiamo il Padre nostro che sta nei cieli dicendo venga il tuo regno. Lo Spirito ci aiuta a vivere la nostra rinascita, a diventare noi figli conformi al Figlio. A Natale meditiamo i Vangeli che testimoniano la nascita di Gesù non per raccontare una bella storia, ma per imparare a vivere noi una vita nuova. A Natale, cioè noi, non guardiamo indietro, non guardiamo lontano, ma teniamo fisso lo sguardo su Gesù per imparare da Lui che è mite e umile di cuore, uomo perfetto nel suo essere Figlio, e corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti per diventare anche noi figli che amano come Gesù, pregano come Gesù, servono come Gesù, lodano il Padre come Gesù e muoiono come Gesù. Ecco, il Natale non è una rievocazione di un fatto del passato, ma un ricevere la grazia di essere nuovi oggi e sempre. Preghiamo, Maria, qui sotto la Madonnina, perché aiuti tutti a diventare come il Figlio suo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Concludiamo anche stasera con la preghiera della sera. Ti adoro, mio Dio. Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io vi benedico, vi auguro buon Natale, vi raccomando di continuare a pregare, di essere disponibili al perdono di Dio e di celebrare con gioia anche questo Natale. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Buon Natale. Buonanotte. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale.